Il Brini si retrocede e succede per la prima volta che la formazione bianca-azzurra perde il campionato di Serie D per approdare in quello di eccellenza. Per ritrovare una retrocessione bisogna andare indietro di 30 anni, il campionato 89-90, quando il Brini si perse lo spareggio con la Putiolana. Ma in quel caso la formazione bianca-azzurra poi fallì e non si iscrisse al campionato successivo. In precedenza la retrocessione era legata alla riforma dei campionati con la nascita della C2. L'ultima vera retrocessione sul campo è nel 74-75, quando il Brindisi retrocedette dalla Serie B alla Serie C. Adesso si aggiunge questa ulteriore pagina mortificante della storia bianca-azzurra. Sul campo il Brindisi chiude il campionato a 33 punti, ma in realtà la formazione bianca-azzurra di Putini ha conquistati 35 e pesano come un macigno i due punti di penalizzazione che mettono ovviamente sul banco degli imputati, principalmente la società adriatica. Uno stadio deserto, quello Brindisino, meno di 100 persone, solo 20 biglietti venduti per l'ultima gara di campionato deserta. E anche l'area VIP dove siedono i soci e i dirigenti bianca-azzurri. Unici presenti il socio Arigliano, il socio addetto stampa Sergio Pizzi, rappresentante della Per Brindisi, ed Enzo Carbonella, direttore generale. In panchina il dirigente Giovanni Bagnardi, nessun altro dirigente, era presente sugli spalti e le sedie erano desolatamente vuote. All'esterno dello stadio invece il messaggio chiaro e netto ancora una volta della Curva Sud, maglia calpestata, città disonorata. È l'ora che questa gente se ne vada e lo striscione è apparso poco prima dell'inizio della partita. Poco da segnalare per il resto, la cronaca vede il Brindisi passare in vantaggio dopo soli tre minuti sul calcio di rigore di Evaco. Il pareggio al 28esimo di Prisco sul colpo di testa che rimette in equilibrio l'incontro nel primo tempo, ma nel finale al 43esimo la punizione di Calemme, la deviazione sotto misura di Dario che porta il risultato finale sul 2-1. La Versa però pareggia, il Francavilla altrettanto e il Brindisi retrocede, come detto, per la prima volta nella storia, dalla Serie D all'eccellenza, ma adesso l'incognita più grande riguarda il futuro del sodalizio biancazzurro.